Quando la maestra ci dà l'ok, benissimo, FG Danza con Waka Waka Llegò il momento, c'è in la muralla Va a cominciare l'unica ajuste della batalla No me golpes, no existe el miedo Quítate il polvo, puntate al piede y vuelves al ruedo Y la presione se siente Creerà in ti, tu gente Ahora vamos por todo, te canto en acerter Sabe la mina, sangraigua, porque esto es África 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 O che spesso accenca Salve a te E un grosissimo applauso al gruppo FG Danza di Capallo dei maestri Fulvo e Gabriella Chiardo Benissimo, poi avremo modo di rivedere nuovamente questo gruppo in seguito e adesso l'altro saluto ve lo porta alla scuola di ballo Mauri Sport di Chiamari e il nostro gruppo insieme, gruppo dei ragazzi, gruppo dei pulcini base